Musica E siamo sempre qui in questa bellissima domenica dedicata al tiro con l'arco con Carla che oltre che a essere consigliere regionale è anche tecnico regionale e capo dei tecnici regionali Mi piace dire capo una donna Amico di tutti i tecnici Cosa vuol dire essere tecnico? Ma essere tecnico intanto vuol dire amare questa cosa che è insegnare il tiro con l'arco Il tiro con l'arco è un'arte marziale che richiede molto tempo perciò bisogna anche trasmettere passione a questi ragazzi altrimenti sono sempre presi da cellulari e playstation Bisogna fargli capire che possono con il tiro con l'arco avere tantissime soddisfazioni a tutti i livelli Cominciano a nove anni già a fare delle gare e sono suddivisi in diverse categorie e discipline Noi come regione lavoriamo soprattutto con l'arco olimpico che è poi la specialità che è riconosciuta dal CIO per andare alle Olimpiadi e cerchiamo di dare a questi ragazzi le informazioni ma anche tutte le esperienze che poi possono mettere nella loro tasca e portare con loro negli anni a venire Allora io con Carla volevo fare un discorso anche molto importante che era questo sport è possibile anche per le persone che hanno difficoltà motorie Assolutamente sì, il tiro con l'arco è proprio una specialità, uno sport dove gli atleti disabili possono gareggiare al pari di tutti gli altri Abbiamo anche in Emilia Romagna, in tutta Italia, atleti di altissimo livello che con la loro preparazione, talento e voglia di allenarsi e di fare perché comunque è un grande sacrificio sono riusciti anche ad entrare nelle nazionali normo perciò alla pari di tutti gli altri e tutti gli effetti, bravissimi E quindi deve essere una gran soddisfazione vedere i tuoi ragazzi oggi come sta andando perché è una gara direi giovanile È una gara giovanile Sono tantissimi da quasi tutta Emilia Romagna e non solo Veneto Sono venuti anche da fuori regione, è una gara dedicata alle classi giovanili perciò dai giovanissimi agli junior perciò si parte dai 25 metri per i più piccoli ai 70 metri per quelli un po' più grandi In questa gara, questo è l'ultimo appuntamento del quadrangolare Emilia Romagna e qui oggi ci sarà il vincitore del quadrangolare intero Tu ovviamente se sei diventata tecnico hai iniziato facendo l'arciere Io sono ancora arciere E ci tengo Sì, ci tengo molto Ma riesci a curare col fatto che sei sempre così impegnata Poco per quello che servirebbe Però anche, devo dire, l'importante è stare insieme agli amici sui campi di gara anche se i risultati non sono più quelli di una volta è lo stesso Tutte le volte mi dico, adesso mi alleno un po' di più poi ovviamente gli impegni ci portano un po' più lontano Allora io ringrazio davvero Carla e lascio andare perché so che la cercano Grazie a te È stato un piacere parlare con te Quindi ragazzi vi invito davvero a venire perché è una bellissima disciplina questa come avete sentito da queste interviste tanta concentrazione ma tanta possibilità di conoscere se stessi viene dall'arte marziale e soprattutto tanta socializzazione quindi si incontrano tanti amici oltre che a fare sport Grazie Carla Grazie a te Ciao